Come pensare in italiano direttamente? Oggi ti presento delle tecniche per fluire naturalmente in italiano senza dover tradurre dalla tua lingua madre. Oggi voglio parlarti di un argomento fondamentale per chiunque voglia parlare italiano con maggiore fluidità. Come imparare a pensare direttamente in italiano? Smettere di tradurre mentalmente e iniziare a pensare direttamente nella lingua che stai imparando è uno dei passi più importanti per diventare fluente. Resta con me fino alla fine del video perché condividerò tecniche e pratiche che potrai iniziare a usare subito con esercizi specifici da fare a voce alta per abituarti a pensare e parlare direttamente in italiano. Perché è importante pensare in italiano? Prima di tutto parliamo del perché è così importante pensare direttamente in italiano. Quando traduci mentalmente dalla tua lingua madre, per esempio lo spagnolo, rallenti il processo di comunicazione e spesso ti senti insicuro o bloccato. Pensare direttamente in italiano ti permette di rispondere più rapidamente, di essere più naturale nelle conversazioni e di migliorare la tua comprensione della lingua. Pensare in italiano ti aiuta anche a interiorizzare le strutture grammaticali e le espressioni idiomatiche rendendo tutto il processo di apprendimento più fluido e meno faticoso. Ora vediamo come puoi iniziare a pensare direttamente in italiano e ti presento delle tecniche proprio per fare questo in maniera pratica. Il primo passo è creare un ambiente mentale in cui l'italiano è la lingua dominante e qualcune tecniche che puoi usare ogni giorno con esempi pratici che puoi ripetere ad alta voce. Una cosa che ti consiglio per esempio è l'etichetta mentale. Che significa etichetta mentale? Significa iniziare a pensare in italiano per le cose semplici della tua giornata. Per esempio quando vedi una sedia pensa subito alla parola sedia in italiano e dirlo direttamente non solo nella tua mente ma magari se sei da sola puoi dirlo a voce alta in maniera da aiutare la tua mente a ricordare perché la pratica è realmente importante. Dunque vedi una sedia e dici ok sto vedendo una sedia e lo fai direttamente senza tradurre dalla tua lingua madre. Per esempio immagina adesso di guardare intorno a te e iniziare a nominare mentalmente o ad altra voce perché secondo me è molto meglio parlare ad alta voce gli oggetti che vedi. Per esempio computer, tavolo, sedia, lampada, finestra, parete, mobile, armadio o magari sei in cucina. Ecco questo è molto importante. Passiamo poi anche a un altro trucco che sono i dialoghi interiori. Durante il giorno prova a parlare con te stessa in italiano. Ad esempio questa è una cosa che facevo molto quando volevo migliorare il mio spagnolo e anche l'inglese. Mentre ti prepari la colazione descrivi mentalmente e ancora di più a voce alta se puoi quello che stai facendo. Per esempio adesso prendo una tazza, metto il caffè, aggiungo lo zucchero, no? E quindi per esempio un esercizio potrebbe essere svolgere le attività quotidiane e descrivere a voce alta proprio quello che stai facendo. Per esempio sto lavando i piatti, adesso uso il sapone. Sto lavando il piatto, lavo il piatto, sciacquo con l'acqua. Oppure magari cose più semplici, sto camminando, vado in direzione del ristorante. E non preoccuparti se non è tutto chiaro o se non hai tutte le parole. Il punto è iniziare ad associare il pensiero in italiano. Cioè il pensiero significa strutturare la tua mente direttamente nominando gli oggetti, le situazioni intorno a te direttamente in italiano. Un altro trucco sono le frasi chiave. impara a memoria alcune frasi chiave che puoi usare in diverse situazioni. Quando ti trovi in una conversazione usa queste frasi automaticamente senza doverle pensare in un'altra lingua prima. per esempio questo esercizio, no? Ripeti ad alta voce frasi comuni come come stai? Che tempo fa oggi? Come ti chiami? Dove vivi? Mi piace questo piatto. Sto imparando l'italiano. Puoi ripetere per favore? Cerca di usare queste frasi in maniera ripetuta e anche in contesti diversi perché in qualche maniera iniziando con un insieme di frasi solide che tu puoi usare creerà una specie di superamento della zona di comfort. Io questo lo so perché quando ho iniziato per esempio a parlare lo spagnolo io avevo una serie di frasi che per me erano molto molto importanti perché le ripetevo molto spesso proprio per avere una solidità mentale e quindi erano così automatiche, così ripetute queste frasi che io direttamente avevo imparato a pensarle in spagnolo perché effettivamente erano usate, ripetute, praticate in maniera incluso eccessiva, non avere paura di esagerare perché funziona. Infatti ti posso dire per esperienza personale che in alcuni temi, parlo di temi che per me sono importanti come può essere magari temi psicologici, temi di crescita personale o magari anche temi di alta finanza o tante cose che mi possono interessare come il marketing eccetera. Voglio dirti che ci sono alcuni concetti che io magari ho imparato in maniera molto molto profonda in lingua inglese o magari in lingua spagnola e ho notato che la mia mente tende a usare la lingua con cui ho imparato molto bene quei concetti e quindi ti fa capire che la mente è flessibile, che solo la ripetizione e la costante esposizione pratica ti permette di continuare a migliorare. Dunque io ti invito realmente a seguire questi trucchi, queste strategie perché funzionano. Parliamo anche dell'esercizio di sostituzione. Prendi una frase semplice nella tua lingua madre e prova a ripeterla in italiano, però poi devi fare una cosa aggiuntiva, più importante, no? Perché se no, altrimenti sarebbe la solita vecchia traduzione e noi non vogliamo tradurre dallo spagnolo, vogliamo direttamente parlare in italiano. Dunque però questo esercizio ci permette di fare una cosa accessoria, una cosa aggiuntiva. Inizi a sostituire le parole italiane che hai tradotto dalla tua lingua con sinonimi o varianti, variazioni, che ti permettono di iniziare a pensare in italiano. Quindi è come un trucco, ti aiuti la prima volta perché ancora magari è difficile. Soprattutto per le persone questo esercizio è pensato che tipicamente mi dicono io tento Marco ma è difficile. Allora fai questo esercizio intermedio se per esempio non sei ancora capace di fare gli esercizi anteriori, prendi la tua frase spagnola per esempio, la traduci in italiano e poi inizi a cambiarla, a variarla però solo ed esclusivamente in italiano. Un esempio, prendi la frase oggi mangio una mela e prova a sostituire le parole. Per esempio puoi dire invece di mela puoi dire pera, oggi mangio una pera, oggi mangio una banana, oppure oggi bevo un caffè e continui a variare e a cambiare la struttura iniziale però, attenzione, esclusivamente in italiano. Quindi hai solo usato la prima volta la strategia facile, poi inizi a prendere la frase che adesso hai in italiano la conformi, la trasformi, la fai diventare sempre più interessante, la cambi, giochi, si tratta di divertirsi, di giocare, di esplorare, di avere questa capacità esplorativa in italiano e di entrare in un territorio nuovo per creare delle nuove mappe mentali, mappe dove gli oggetti si chiamano in italiano, mappe mentali dove anche a livello neurologico tu connetti la parola italiana al concetto che stai osservando e così con le situazioni e con le persone. Oppure domani mangio una banana e poi cambi e continuo ad avanzare. Domani vado al ristorante a mangiare un piatto di pasta, oppure domani vado in pizzeria a mangiare una pizza. Ecco, devi giocare e ripetere queste frasi ad alta voce per abituarti ai cambiamenti. Adesso parliamo dell'importanza della pratica costante e pensare in italiano non accade dall'oggi al domani, non è una cosa istantanea, ma solamente può accadere con la pratica costante. Diventerà naturale. Dunque, dedicare ogni giorno un po' di tempo a esercitarti è realmente fondamentale. Per esempio, prendi l'abitudine di passare almeno 15 minuti ogni giorno a fare questi esercizi di pensiero e ripeterli a voce alta. Più spesso lo fai, più veloce sarà il tuo progresso. Quando io, per esempio, ho voluto imparare lo spagnolo in tre mesi e ovviamente il mio spagnolo non era perfetto alla fine di quei tre mesi, però sinceramente potevo farmi comprendere direttamente in spagnolo in tutte le situazioni che per me erano necessarie, perché io in quella epoca viaggiavo attraverso l'America Latina e avevo la necessità di sentire che potevo dominare queste conversazioni. E io ci sono riuscito nel giro di pochi mesi proprio perché durante la mia giornata passavo letteralmente tre, quattro ore quotidianamente a pensare in spagnolo o perlomeno tentare di parlare spagnolo direttamente. E allora facevo questi esercizi mentre camminavo dicevo ok, devo dirlo in spagnolo, devo simulare l'esercizio, devo immaginare e ripetere a voce alta, quello che sto vivendo, quello che osservo, come si chiama, era una costante, un costante tentativo di creare una nuova mappa mentale e di creare nuove interazioni neurologiche attraverso le mie parole che in spagnolo dovevano creare una nuova pista neuronale nella mia mente e che devono praticamente associare a concetti nuove parole e nuove frasi. Tanto ho ripetuto, tanto ho perseverato, tanto ho continuato su questo cammino che poi chiaramente piano piano sono diventato sempre più bravo. Quindi queste cose funzionano. Un altro consiglio importante è quello di immergerti completamente nella lingua. Per esempio, ascolta i miei podcast in italiano, leggi libri o articoli, guarda film o serie tv direttamente in italiano. Ti piace la musica? Perfetto! Ancor di più se magari hai un amico o un'amica o semplicemente conoscenti che possono parlare con te in italiano. Anche se tipicamente non hanno la stessa pazienza che chiaramente avrei io, perché lo faccio con professionalità ed è il motivo per cui molte volte anche persone che sono sposate con un italiano o con un'italiana poi desiderano magari fare lezioni private direttamente con me, fare corsi individuali di conversazione pratica in videoconferenza con me, ma perché ho la pazienza, la metodologia, la pedagogia, l'entusiasmo e anche chiaramente l'esperienza che permette di creare la fonetica giusta, di superare la vergogna, superare la paura di parlare in pubblico e anche poi c'è una gratificazione di poter produrre le frasi in italiano, insomma c'è tutto un aspetto psicologico e motivazionale che io ormai conosco, però il punto è che l'importante con me o senza di me è quello di fare tanta tanta pratica e dunque ti puoi così con questa immersione costante ti puoi abituare ai suoni e anche il ritmo dell'italiano perché la lingua italiana ha dei ritmi propri e poi soprattutto a pensare direttamente nella lingua italiana senza dover tradurre della tua lingua madre. Più sarai esposto alla lingua italiana più facile sarà per te iniziare a pensare nella bellissima lingua del bel paese. Adesso come sai sono nella fase conclusiva di questo meraviglioso video ma non vedo l'ora di leggere i tuoi messaggi, i tuoi commenti per sapere di cosa ti piacerebbe parlare nel prossimo video. Ora sicuramente sai inoltre come iniziare a pensare in italiano e perché è così importante per il tuo progresso linguistico. Dunque facciamo un piccolo riassunto, ricapitoliamo un poco e diciamo che possiamo etichettare e mappare mentalmente gli oggetti direttamente in italiano. Possiamo fare dialoghi interiori in italiano osservando e dicendo a voce alta quello che facciamo, le nostre situazioni, le persone che incontriamo e le cose che stiamo pensando e facendo. Tre, possiamo memorizzare delle frasi chiave che noi abbiamo come delle frasi di riferimento per usarle nelle situazioni della vita e quindi avere una base solida per già iniziare direttamente a pensare in italiano e poi fare esercizi di sostituzione come ti ho spiegato prima per andare a superare la zona di comfort e ampliare il proprio orizzonte cognitivo. Sono tutte tecniche che puoi usare subito per iniziare a pensare in lingua italiana. Ricorda di praticare ogni giorno e di ripetere ad alta voce per rendere tutto più naturale. Ricorda che in questo video io parlo lentamente o perlomeno tento di parlare lentamente perché so che stai imparando la lingua italiana e quindi cerco di darti il tempo di comprendere. Se sei davvero motivato a migliorare il tuo italiano io ti invito a contattarmi via whatsapp usando il link in descrizione o in bio e potrai ricevere maggiori informazioni sul mio corso individuale in videoconferenza dove ci concentreremo proprio su queste tecniche e su come applicarle nella conversazione pratica simulando frasi della vita reale, situazioni che tu incontrerai e che magari stai già incontrando. Tutto con tanta pratica e motivazione è un'occasione unica per fare un salto di qualità e in poco tempo superare i blocchi linguistici e parlare immediatamente in italiano già dalla prima lezione con frasi che sono utili e imparare poco a poco nuovi contesti e sbloccare nuove situazioni. Grazie per aver guardato questo video, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Se ti è piaciuto il video dai un buon like, buona fortuna o come diciamo noi in bocca al lupo con il tuo italiano e ci vediamo presto. Ciao, un abbraccio da Marco, ciao ciao!